Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di pulizia della roggia di Udine nel contesto del suo attraversamento cittadino e dureranno, secondo il crono programma, per circa quattro mesi. Come prima fase si procederà al prosciugamento del corso d'acqua. Il consorzio di bonifica della pianura friulana provvederà al recupero della fauna ittica con il supporto dell'ente tutela patrimonio ittico. Saranno effettuati diversi interventi di raccolta del pesce trasferiti in aree protette. Poi si inizierà la seconda fase con la pulizia interna suddivisa in più tratte dove al momento è stata segnalata la presenza della fauna anatide, viale VAT, viale Volontari della Libertà, via Zanone e via Pozzuolo. Salvo inconvenienti la roggia tornerà a scorrere dal 6 marzo 2025.